Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico Nota 2 e ci ritroviamo oggi in un video su Motown Wolf 2. Nel video di oggi ragazzi vi mostrerò alcune tecniche da utilizzare per chi vuole, come me, platinare le armi. Come sapete benissimo, per platinare le armi bisogna fare 25 uccisioni con colpo alla distanza. Come vedrete qui nel sottofondo, la miglior mappa per fare queste cose è Shoot House, ma per quanto riguarda la mappa ne parleremo dopo. Adesso la cosa più importante da fare è, per quanto riguarda la vostra arma che volete fare in platino, è di creare una build la più stabile possibile, perché andremo appunto a fare dei colpi dalla lunga distanza. In questo video andremo a fare l'STB-556, ovvero l'Augone fatto a fucile d'assalto in platino. Ho fatto una sola uccisione con quest'arma dalla distanza, quindi andremo a vedere quanto tempo ci metto. Il settaggio parte con la Karna Bruen Turaco, con calibrazione, stabilità rinculo e portata danni al massimo. Ottica VLK con lontano e resistenza a balcolamento al massimo. Come calcio andiamo a mettere il Bruen HCR con stabilità puntamento in marcia e da fermi al massimo. Andiamo a mettere l'impugnatura STIP-40 con stabilità rinculo e stabilità puntamento da fermi al massimo. E il sottocanna FTA Creeper 56 con stabilizzazione rinculo e stabilità puntamento da fermi. Quindi ragazzi, parlando un po' della tecnica. Voi sapete bene che Shoothouse ha un corridoio centrale. La tecnica è di mettersi appoggiati al muro e di mirare dall'altro lato. In questo modo avrete le uccisioni dalla lunga distanza. Quindi dopo il settaggio lanciamo la partita e andiamo a vedere quanto tempo ci mettiamo. Ok ragazzi, quindi la partita è già iniziata, non fa niente. Ed eccola la prima FTA. No, ha finito le monete. Quindi stiamo a 2, 3. Ovviamente non ci serve un caricatore. Perché facciamo una kill e ricarichiamo e abbiamo bisogno di accessori per la stabilità. Finite le muni. Cambiamo spottino e si ricomincia. Sperando che la gente venghi. Un'altra fatta, eh? Ah, mi ha cecchineto. Comunque funziona anche da qua ragazzi. Non bisogna mettersi per forza appoggiati. Questa non vale, troppo vicino. Ok, non si mette più questo. Dai. Fammi fare quest'arma come si deve. Niente. Eccolo. Eh, c'era il compagno. Minchia, si spara tutti qua. No, non posso. Beh, continuiamo la nostra sfida. C'è un nemico. Poi ragazzi, ovviamente. Dipende anche dalla lobby. Vedete, questi hanno capito e non si mettono più. Eccolo, ho fatto un altro. Quindi ragazzi, come vedete, in una partita ne abbiamo fatti solo sei. Come vi ho detto, dipende sempre dalla lobby. Ci sono lobby in cui ne faremo anche due o tre. Qui ne abbiamo fatti sei. Non male. Quindi, andiamo con la seconda partita. Vai, si riparte. Ne mancano Diciotto. Niente. Diciasette. Sì, però se i miei amici incominciano ad andare dall'altro lato, questi qua non si mettono. Ma... Fa un culo, va. Eccolo, sedici. Dai, amichetti, uscite. Fatemi fare sta mimetica, eh. E' troppo vicino. Niente, raga. Un'altra lobby, dai. Vai. Proviamo. Nuova lobby. Mancano sedici. Mancano sedici. Niente, non vengono. Mamma mia. Sono proprio dei bascati. Buona no. Cambio caricatore. Quindici. Prendiamo bravo. Cambio caricatore. Non è male che qua si sentono i passi, eh. Vito l'alleato in zona. Abbiamo perso alfa. No, che culo pure questa. Ma come, assis, vaffanciulo. Dai. Ok. Dai, conquista staff e vieni qua a combattere. Fatto. Ecco ti sistemato. Il nemico ha catturato due obiettivi. Dobbbero mancare una decina, dai. Stiamo prendendo bravo. Un'altra in fronte all'uso. Stiamo prendendo bravo. Si hanno colpito. Cambio caricatore. Mi serve una parella. Ah. Finalmente. Un'altra in fronte. Affanculo. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Dai, altre due. Ultima, dai. Dai, esci sta testa. Ti aspetto. Ti aspetto. Non è. Ah, sì. Me l'ha fatta. Ecco, sfida completata. E quindi ragazzi, come avete ben visto, abbiamo fatto quest'arma in platino. Ci sono voluti 43 minuti. Ragazzi, mi raccomando, se volete altri consigli, abbonatevi al canale e attivate le notifiche per non perdere mai i video del Siricone. Ti aspetto. Ti aspetto. Ti aspetto.